Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Apriamo con la FIPL in direzione Livorno un chilometro di coda per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina e coda alla Strassigna in uscita da Firenze. Segnaliamo che il cantiere sulla FIPL chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi sulla SP12 e sull'autostrada 11. Sempre in FIPL sono chiuse le uscite di Tirrenia provenendo da Firenze e l'entrata di Ginestra Fiorentina da Livorno. Prima di salutarci passiamo al traffico aereo. Il volo Firenze-Lisbona di TAP delle 20.35 è segnalato in partenza alle 21.15. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio.